Oggi pillola di buon umore, vedete che mi viene via Pippe, sui tiarniei, i carnici, i grandi spragnini, però anche gli strians, anche i pedoglossi, mamma mia, ci ha lato un giarniei a Portorose e gli strians gli ha fatto il caffè, gli ha metto l'acqua, dopo l'acchiappato un chicco di caffè e lo faceva dentro, così. Qui anche gli strians e i lati in cerniei, gli ha metto la stessa quantità di acqua, e aveva in cerniei il chicco di caffè Illy e invece ha detto che dentro l'acqua faceva il nome a Tor a Tor. Allora ha detto che non si sa mai che il caffè diventa rimasto forte.